Circuito Total Body con pesetti e cardio, esercizi di facile esecuzione e tempi da 20 secondi. Iniziamo! Ok, iniziamo. Step touch, ci spostiamo a destra e a sinistra. Iniziamo subito con un buon riscaldamento prima di iniziare questo workout. Esercizio successivo, apertura laterale sulla gamba. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, apertura laterale, mani sui fianchi, apre e chiudo la gamba destra, gamba sinistra leggermente piegata e schiena dritta. Attiviamo da subito la respirazione, naso, bocca. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, mani sempre sui fianchi, apro e chiudo la gamba sinistra. Lavoriamo solo sulla gamba sinistra, la gamba destra leggermente piegata, schiena sempre dritta per la postura. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, circonduzione delle braccia, movimenti ampi indietro, testa dritta, respiro. Scaldiamo sia la parte bassa e in questo momento la parte alta prima di iniziare l'allenamento. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Ancora circonduzione in avanti, movimento ampio in avanti, testa dritta. Esercizio successivo, corsa sul posto. Iniziamo ad aumentare un po' il ritmo. 5, 4, 3, 2, 1. Corsettina sul posto, simuliamo una corsa, muoviamo le braccia, le gambe, sempre più respirazione naso e bocca. Ancora 10 secondi. Esercizio successivo, mobilizzazione della colonna. Attiviamo la schiena. 3, 2, 1. Vai. Mani sulle ginocchia, in arco prendo aria, in curvo fuori l'aria. In arco sollevo la testa, in curvo porto il mento verso il petto. Movimento lento, controllato. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, spinta indietro. Vai. 2, spinte e cambio. 2 spinte e cambio. Scaldiamo bene tutto il corpo. Ancora 10 secondi e ritorniamo con la corsa sul posto. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Corsettina sul posto, aumentiamo un pochino il ritmo. Attiviamo tutto il corpo prima di iniziare l'allenamento. Mi raccomando non saltate mai, il riscaldamento è importantissimo. Iniziamo lo workout con 2 jumping jacks più passo laterale su mezzo squat. 3, 2, 1. Vai. 2 jumping jacks, 2 passi laterali in mezzo squat e ancora 2 jumping jacks. Vamos. Sincronizza il movimento. 2 jumping jacks, 2 passi laterali in mezzo squat e ancora 2 jumping jacks. 5, 4, 3, 2, 1. Step touch. Mi sposto a destra e a sinistra. Respiro. Testa dritta. 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Prendiamo i pesetti. Alzate laterali, gomiti a 90 gradi. 3, 2, 1. Alzate. Gomiti a 90 gradi. Gambe leggermente piegate. Schiena dritta. Addome contratto. Attiviamo i deltoidi e i trapezzi ancora. Non ti fermare. 3, 2, 1. Recupero attivo. manteniamo i pesetti per alzata frontale su mezzo squat. 3, 2, 1. Vai. Mezzo squat. Stendo le gambe e sollevo i pesetti. Glutei contratti. Schiena dritta. Testa dritta. Mantengo la respirazione attiva. Sali e scendi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Alzate laterali. Lavoriamo bene sulle spalle. 3, 2, 1. Salgo e scendo piano. Gambe leggermente piegate. Il movimento è lento e controllato per attivare al massimo i deltoidi. Vai. Salgo e trattengo in discesa. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Appoggiamo i pesetti. Ripartiamo in step touch. 3, 2, 1. Vai. Step touch. Mi sposto a destra e sinistra. Respiro. Esercizio successivo. Passo incrociato dietro più salto. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Passo incrociato indietro più salto. Saltello e passo incrociato. Saltello e passo incrociato. Le braccia hanno un ruolo importante nel movimento. Sincronizzo il movimento e miglioro l'equilibrio. Vai di centro in avanti. Testa dritta. Vamos. 3, 2, 1. Step touch. Respiro. Ancora spostamento a destra e a sinistra. Respiro. Ancora 10 secondi e ripartiamo con salto sforbiciato. Aumentiamo un pochino il ritmo. Buttiamo fuori tutte le energie. 3, 2, 1. Vai. Salto sforbiciato. Testa dritta in avanti e respirazione attiva. Lavoro sulle braccia. Postura. Respirazione. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Riprendo fiato. Riprendiamo i pesetti. Ripartiamo con bicipiti alternati. 3, 2, 1. Gambe leggermente piegate. Schiena dritta. Alterno bicipite destro. Bicipite sinistro. Addome contratto. Vai. Controllo il movimento. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Bicipiti frontali. Doppia salita. 3, 2, 1. Vai. Salgo e distendo lentamente. Sempre gambe leggermente piegate. Attiviamo i bicipiti. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Ancora bicipiti ma a martello. 3, 2, 1. Vai. Bicipiti a martello a destra e a sinistra. Prima da una parte e poi dall'altra. Non barcolare. Addome contratto. Testa dritta. Respiro. Gambe larghezza delle spalle. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero. Affondi indietro su una gamba. Appoggiamo i pesetti. Ci prepariamo. 3, 2, 1. Vai. Affondi indietro solo su una gamba. Controllo il movimento. Ginocchio sfiora il pavimento ma non tocca così abbiamo una reattività più alta. Attiviamo gambe e glutei. Ancora. 3, 2, 1. Step touch. Ci spostiamo subito a destra e a sinistra. Sciogliamo. Respiriamo. Ancora 10 secondi e ripartiamo con affondi indietro. Andiamo a lavorare sull'altra gamba. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Affondi indietro sull'altra gamba. Movimento lento. Controllato. Lavoro sulle braccia per migliorare l'equilibrio. Attiviamo gambe e glutei. Ginocchio sfiora il pavimento e salgo. Sfiora il pavimento e salgo. 3, 2, 1. ancora step touch. Vai. Mi sposto a destra e a sinistra e respiro. Sempre respirazione. Continua su ogni esercizio. Respiro naso, bocca. Esercizio successivo squat. 5, 4, 3, 2, 1. Squat. Allargo le gambe. Talloni ben appoggiati a terra. Il ginocchio segue la linea della gamba. Apro leggermente le punte. Respiro. Scendo bene in squat. Uno squat pieno dove il gluteo è in linea con il ginocchio. Vai. 3, 2, 1. Recuperativo. Respiro. Ripartiamo con i pesetti tricipiti busto a 45 gradi. 3, 2, 1. Gomiti aderenti al corpo. Busto leggermente inclinato in avanti. Schiena dritta. Glutei contratti. Mantengo la respirazione. Distendo le braccia. Attiviamo i tricipiti. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Ancora recupero attivo. Tricipiti doppia presa. Appoggiamo un pesetto. 3, 2, 1. Vai. Una gamba avanti e una dietro. Estendo. Estendo e fletto le braccia. Gomiti più vicini possibile alle orecchie. Attiviamo al massimo i tricipiti. Ancora 5, 4, 3, 2, 1. Recuperativo. Respiro. Appoggio i pesi in avanti e ripartiamo in V-step. 3, 2, 1. Vai. V-step. Alterno il movimento con le braccia. Andiamo a disegnare una V a terra. Vai. Apro, apro, chiudo, chiudo. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Attenzione V-step. Più saltello indietro. Apro, apro, due saltelli indietro. Apro, apro, due saltelli indietro. Ancora. Due saltelli indietro. Apro, apro. Due saltelli. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Step touch. Mi sposto a destra e sinistra. Respiro. Manteniamo sempre una respirazione attiva su ogni esercizio così non andiamo in affanno. 10 secondi. ripartiamo con 3 jumping jacks più 4 sforbiciate. 3, 2, 1. Vai. 3 jumping jacks e 4 sforbiciate. Ancora 3 jumping jacks e 4 sforbiciate. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ancora 5, 4, 3, 2, 1. recupero attivo. Respiriamo. Prendiamo il nostro tappetino. Andiamo a terra a lavorare sul retto addominale. 3, 2, 1. Vai. Crunch classico. Gambe appoggiate a terra. Piede non troppo vicino ai glutei. Schiena ben aderente al pavimento. Piede a terra in sicurezza. Salgo e butto fuori l'aria. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ci giriamo per il plank. 3, 2, 1. Plank isometrico. braccia in linea con le spalle. Testa dritta. Corpo in linea. Non cedo con il bacino. Respiro. 10 secondi di isometria e mantengo la posizione. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Addominali bicicletta più tocco sotto coscia. 5, 4, 3, 2, 1. Tocco sotto la coscia alternato. Simbolo movimento bicicletta con le gambe. E tocco con la mano al di sotto della coscia. Destra, sinistra. Destra, sinistra. appoggio bene la schiena a terra. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Ci prepariamo per il secondo giro. Vamos. Carichi. Spostiamo il tappetino. Ripartiamo con alzate laterali, gomiti a 90. Prendiamo i pesetti. secondo giro. 3, 2, 1. Vai. Alzate. Gomiti a 90 gradi. Gambe leggermente piegate. Schiena dritta. Addome contratto. Attiviamo i deltoidi e i trapezzi ancora. Non ti fermare. 3, 2, 1. Recupero attivo. manteniamo i pesetti per alzata frontale su mezzo squat. 3, 2, 1. Mezzo squat. Stendo le gambe e sollevo i pesetti. Glutei contratti. Schiena dritta. Testa dritta. Mantengo la respirazione attiva. Sali e scendi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Alzate laterali. Lavoriamo bene sulle spalle. 3, 2, 1. Salgo e scendo piano. Gambe leggermente piegate. Il movimento è lento e controllato per attivare al massimo i deltoidi. vai. Salgo e trattengo in discesa. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Appoggiamo i pesetti. Ripartiamo in step touch. 3, 2, 1. Vai. Step touch. Mi sposto a destra e sinistra. Respiro. esercizio successivo. Passo incrociato dietro più salto. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Passo incrociato indietro più salto. Saltello e passo incrociato. Saltello e passo incrociato. Le braccia hanno un ruolo importante nel movimento. Sincronizzo il movimento e miglioro l'equilibrio. Bari centro in avanti. Testa dritta. Vamos. 3, 2, 1. Step touch. Respiro. Ancora spostamento a destra e a sinistra. Respiro. Ancora 10 secondi e ripartiamo con salto sforbiciato. Aumentiamo un pochino il ritmo. Buttiamo fuori tutte le energie. 3, 2, 1. Salto sforbiciato. Testa dritta in avanti e respirazione attiva. Lavoro sulle braccia. Postura. Respirazione. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Riprendo fiato. Riprendiamo i pesetti. Ripartiamo con bicipiti alternati. 2, 1. Gambe leggermente piegate. Schiena dritta. Alterno bicipite destro. Bicipite sinistro. Addome contratto. Vai. Controllo il movimento. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Bicipiti frontali. Doppia salita. 3, 2, 1. Vai. Salgo e distendo lentamente. Sempre gambe leggermente piegate. Attiviamo i bicipiti. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Ancora bicipiti ma a martello. 3, 2, 1. Vai. Bicipiti a martello a destra e a sinistra. Prima da una parte. Poi dall'altra. Non barcolare. Addome contratto. Testa dritta. Respiro. Gambe larghezza delle spalle. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero. Affondo indietro su una gamba. Appoggiamo i pesetti. Ci prepariamo. 3, 2, 1. Vai. Affondo indietro solo su una gamba. Controllo il movimento. ginocchio sfiora il pavimento. Ma non tocca. Così abbiamo una reattività più alta. Attiviamo gambe e glutei. Ancora. 3, 2, 1. Step touch. Ci spostiamo subito a destra e a sinistra. Sciogliamo. respiriamo. Ancora 10 secondi e ripartiamo con affondo indietro. Andiamo a lavorare sull'altra gamba. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Affondo indietro sull'altra gamba. Movimento lento. Controllato. Lavoro sulle braccia per migliorare l'equilibrio. Attiviamo gambe e glutei. Ginocchio sfiora il pavimento e salgo. Sfiora il pavimento e salgo. 3, 2, 1. Ancora step touch. Vai. Mi sposto a destra e a sinistra e respiro. Sempre respirazione. Continua su ogni esercizio. Respiro naso, bocca. Esercizio successivo. Squat. 5, 4, 3, 2, 1. Squat. Allargo le gambe. Talloni ben apposati a terra. Il ginocchio segue la linea della gamba. Apro leggermente le punte. Respiro. Scendo bene in squat. Uno squat pieno dove il gluteo è in linea con il ginocchio. Vai. 3, 2, 1. Recuperativo. Respiro. ripartiamo con i pesetti. Tricipiti. Busto a 45 gradi. 3, 2, 1. Gomiti aderenti al corpo. Busto leggermente inclinato in avanti. Schiena dritta. Glutei contratti. Mantengo la respirazione. Distendo le braccia. Attiviamo i tricipiti. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Ancora recupero attivo. Tricipiti. doppia presa. Appoggiamo un pesetto. 3, 2, 1. Vai. Una gamba avanti e una dietro. Estendo e fletto le braccia. Gomiti più vicini possibile alle orecchie. Attiviamo al massimo i tricipiti. ancora 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Respiro. Appoggio i pesi in avanti e ripartiamo in V-step. 3, 2, 1. Vai. V-step. Alterno il movimento con le braccia. Andiamo a disegnare una V a terra. Vai. Apro, apro, chiudo, chiudo. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Attenzione. V-step. più saltello indietro. Apro, apro. Due saltelli indietro. Apro, apro. Due saltelli indietro. Ancora. Due saltelli indietro. Apro, apro. Due saltelli. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Step touch. Mi sposto a destra e a sinistra. Respiro. Manteniamo sempre una respirazione attiva su ogni esercizio così non andiamo in affanno. 10 secondi. Ripartiamo con 3 jumping jacks più 4 sforbiciate. 3, 2, 1. Vai. 3 jumping jacks e 4 sforbiciate. Ancora. 3 jumping jacks e 4 sforbiciate. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. respiriamo. Prendiamo il nostro tappetino. Andiamo a terra a lavorare sul retto addominale. 3, 2, 1. Vai. Crunch classico. Gambe appoggiate a terra. Piede non troppo vicino ai glutei. Schiena ben aderente al pavimento. Piede a terra in sicurezza. Salgo e butto fuori l'aria. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ci giriamo per il plank. 3, 2, 1. Plank isometrico. Braccia in linea con le spalle. Testa dritta. Corpo in linea. Non cedo con il bacino. Respiro. 10 secondi di isometria. Mantengo la posizione. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Addominale bicicletta più tocco sotto coscia. 5, 4, 3, 2, 1. Tocco sotto la coscia alternato. Simbolo movimento bicicletta con le gambe. Tocco con la mano al di sotto della coscia. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Appoggio bene la schiena a terra. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Recupero attivo. rotazione dell'anca da distesi. 5, 4, 3, 2, 1. Schiena ben appoggiata a terra. Acavalo le gambe. Ruoto il busto da un lato mentre le gambe ruotano dall'altro. Appoggio il ginocchio a terra e respiro. Mantengo lo stretching senza forzare. Dove arrivo mantengo la posizione. 3, 2, 1. Cambio. Stesso movimento dall'altro lato. Il busto ruota lentamente da un lato mentre le gambe ruotano dall'altro. Dove arrivi mantieni la posizione senza forzare e respira. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Mobilizzazione colonna da terra. Ci giriamo. Posizione di quadrupedia. 3, 2, 1. Posizione di quadrupedia. Prendo aria. In arco. Fuori l'aria in curvo. In arco. E in curvo. Prendo aria in arco. Fuori aria in curvo. Respirazione continua. Movimento della testa. Segue il movimento della colonna. Vai. Ancora. In arco e in curvo. 3, 2, 1. Posizione acovacciata. Posizione acovacciata. Mani a terra e testa rilassata tra le ginocchia. Mantengo la posizione. Chiudo gli occhi. Respiro. Mantengo lo stretching e mi rilasso. Ancora 10 secondi e passiamo allo scarico colonna da terra. 3, 2, 1. Scarico. Posizione di quadrupedia. Approggio la fronte a terra. Mani ai lati dei piedi. Glutei che si avvicinano alle caviglie. Mantengo la posizione. Scarico. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ci giriamo. Stretch in gluteo. Schiena a terra. 3, 2, 1. Appoggio la caviglia sul ginocchio opposto. Afferro la parte posteriore della coscia senza forzare testa dritta. Respiro e mantengo la posizione. 3, 2, 1. Afferro la parte posteriore della coscia. Mantengo la posizione. Respiro. Non forzare mai lo stretching. 3, 2, 1. Ok. Il tuo allenamento è finito. Hai fatto un ottimo lavoro. Al prossimo allenamento. Vamos! Al prossimo allenamento.